numero 3 zio ciro passaggio a zio ciro zio ciro che cerca evita l'avversario e avanza e crossa in avanti ma la palla va fuori l'attaccante il numero 3 ha sbagliato un passaggio è un difensore passaggio in avanti attacca la squadra la squadra blu attacca la squadra rossa difende ecco che la squadra rossa attacca passaggio numero 18 che avanza sulla fascia laterale ma perde il pallone ecco passaggio per i blu passaggio per questo senza numero l'innominabile cross al centro ma la palla fuori ora palla per la squadra blu che cross al centro parte cross ma per nessuno va fuori palla della squadra rossa numero 3 batte un lungo cross in avanti che finisce sulla testa di avversari il quale passano indietro al proprio portiere